guarda voto le vostre clip parte 1 iniziamo subito con una gustosa impennata in curva 7 e mezzo ti ricordo che se vuoi partecipare anche te ti passerà a mandare un tuo video al mio instagram seconda clip e abbiamo una bmx con questo slow motion della partenza 8 su 10 uv internazionale dalla francia con una bici da trial e molto stile 8 e mezzo assicurato e finalmente qualche salto da notare poi che prende il ramo in faccia 7 e mezzo e adesso il vincitore è proprio lui